Poi c'è il tuo biscotto, non c'è il tuo biscotto, non c'è il tuo biscotto. ahahahah innanzimi che f***** che l'hai già fatta io che lui scoglie a nanzi ma puoi si vede che è proprio giatta eh che becchia ma che roba ti faccia ricotta? ehm se non mi metti sta bella cenacina bella stanno un buco apposta e poi ci mani a pisciare a due ma io la tengo rinforzata no, l'acqua è no, l'acqua è scusi, non ti ho fatto la ricimisa dai che l'acqua sta dai, l'acqua sta dai, la cordicella andate la cordicella la tengo però tengo paura che si rompa si rompa in diche macello ma ci faccio a tutti tengo paura no, mica la corda tengo paura che si rompa la macello i poveri perdono pesci del genere si le fanno fun chi le fanno fun si grande grande questa è essa sul gig ragazzi è essa? è essa si non è grossocontato finalmente veramente non ti preoccupare fa la spruzione prima dai ragazzi qua è bisogna qualcuno scelta vengalo guida facciamo la stanza stanza un altro po aspetta William te lo dico io non avere fretta siiii e vaffanculo va e William è male anche tu William è pesca con uno grazie a tutti